Inter per l'iscrizione al campionato concluso. Il Foggia lo ha completato nel pomeriggio di ieri quando è partita via PEC tutta la documentazione necessaria, fideiuscione e pagamenti compresi per prendere parte al prossimo campionato di Serie C. Un lieto fine prima annunciato tre giorni fa e poi ufficializzato ieri dal club in una nota pubblicata sui propri profili social. Si chiude dunque una questione che ha tenuto per circa un mese un'intera tifoseria col fiato sospeso. Quella stessa tifoseria che ora attende quelli che sono i programmi della società del presidente Nicola Canonico che da quanto filtra non saranno all'insegna del vivacchiare in viaggio vertice l'ambizione di essere protagonisti nella stagione che partirà il prossimo primo luglio. E la prossima settimana potrebbe essere quella dei primi annunci da giorni canonico e al lavoro per fissare i primi fondamentali tasselli. Su tutti quello del direttore sportivo. Il presidente del Foggia è intenzionato ad affidare l'incarico ad un DS che abbia maturato una importante esperienza e che sia di sicuro affidamento. Proprio la nomina del direttore sportivo destinato a prendere il posto di Emanuele Belviso che potrebbe ma il condizionale d'obbligo comunque rimanere nel club con qualche altro incarico è un paletto fondamentale perché dà le idee del nuovo DS che passeranno le nuove scelte. In primis quelle dell'allenatore, poi delle operazioni di mercato che si intenderà portare a compimento. Il Foggia ha tuttavia il vantaggio di poter muoversi con ampio anticipo e non è un vantaggio di poco conto, considerato che nelle tre precedenti stagioni, da quando c'è sia aperta l'era canonico, non era mai accaduto. Nella prima stagione quella targata a Zeman il patron salì sul ponte di comando solo a giugno inoltrato, poi si organizzò la stagione con tutte le difficoltà del caso e con un ritiro a cui prese parte un gruppo che col tempo subì notevoli cambiamenti. Più o meno andò alla stessa maniera nell'annata successiva, quando Canonico affidò il progetto tecnico nelle mani di Boscaglia. Peggio ancora nella scorsa stagione, quando i ricorsi per inseguire la Serie B sfuggita nella maledetta doppia finale con Lecco finirono per ingessare il progetto tecnico, stravolto poi a gennaio con la squadra in piena lotta per non retrocedere. Ora c'è la tranquillità di potersi organizzare per tempo, ponderando tutte quelle che saranno le scelte. Oltre un mese e mezzo a disposizione per operare al meglio prima che, con la partenza per il ritiro precampionato, la squadra torni al lavoro per preparare il nuovo anno. Ma tutto passerà per le primissime mosse. Direttore sportivo, diversi dialoghi già avviati da Canonico, che conta di definire il tutto entro una decina di giorni, e successivamente allenatore. Poi si penserà all'arresto e a programmare, possibilmente per essere protagonisti.